Testimonianze di vite spezzate, le lacrime di chi è dovuto scappare sotto le bombe e le immagini di quella che un tempo era una città, ora ridotta ad un cumulo di macerie. In occasione del secondo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, è stato organizzato un evento commemorativo presso il Museo Civico di Bari, dove è stato proiettato il documentario 20 Days in Mariupol del premio Pulitzer Mitzlav Chernov, candidato agli Oscar e che ha ottenuto un riconoscimento ai British Academy Film Awards. A prendere la parola per prima è Tetiana Vyshka, fuggita dalla guerra all'indomani dello scoppio del conflitto e che ora è studentessa dell'Iceo Salvemini di Bari. Siamo scappati dalla guerra io con la mia famiglia, dovevamo venire proprio sotto le bombe. Oltre il racconto dei tanti ucraini scampati ai bombardamenti, erano presenti silenziosamente tra il pubblico altri sopravvissuti con addosso collanine e spille giallo e blu. Nel mentre in giro per la città per dimostrare vicinanza al popolo martoriato dal conflitto, il comune ha esposto una bandiera ucraina sulla facciata del palazzo di città, così come hanno fatto alcuni baresi sui balconi delle proprie case. Noi oggi siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza al popolo ucraino, anche alle persone sfollate in qualche modo dall'Ucraina che sono nella nostra città. Questa commemorazione della quale si rendono responsabili da sempre tutti gli artisti, gli intellettuali, gli scrittori e i fotografi ci restituisce oggi e più che mai la memoria come atto di pace, ma responsabilità e consapevolezza. Grazie Grazie